Il presidente cinese fa appello alla moderazione per evitare una crisi umanitaria su larga scala in Ucraina. La fiamma della guerra si è riaccesa nel continente europeo, ha detto Xi Jinping, in un incontro virtuale con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il presidente cinese ha dunque sollecitato una soluzione negoziata del conflitto. Il vuoto, non colmato dalle diplomazie, si è tradotto negli attacchi subiti dai civili ucraini in fuga dalle truppe russe. Il segretario generale della Nato Stoltenberg ne ha parlato durante la sua visita in Lettonia. Ci sono rapporti molto attendibili che parlano di civili sotto il fuoco russo mentre cercano di evacuare, dice Stoltenberg. Prendere di mire civili è un crimine di guerra ed è totalmente inaccettabile. Non lontano, in Estonia, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha concluso il giro di incontri nelle Repubbliche Baltiche. Blinken ha assicurato loro che la Nato garantirà la sicurezza contro una minaccia che conoscono in prima persona. Come ho detto ieri in Lituania e in Lettonia, il popolo dell'Estonia, che ha vissuto decenni di occupazione sovietica, capisce in maniera profonda quanto sia sbagliata la guerra non provocata e ingiustificata della Russia in Ucraina. Come il mondo debba difendere il diritto dell'Ucraina ad esistere come paese democratico, sovrano e libero di scegliere il proprio futuro. La premier Estone ha detto che le sanzioni contro la Russia dovrebbero essere stese a criptovalute, petrolio e porti marittimi.